gentili telespettatori un cordiale saluto da parte di Giuseppe Capuano qui al Campopire sul lungomare di Scauri una nuova avventura anche se siamo già arrivati ai playoff nel campionato amatoriale la Virtus Atletico Virtus Scauri quest'oggi gioca i playoff quasi in un derby contro la formazione dell'amatori Coreno chi vi parla è ovviamente Giuseppe Capuano le immagini sono curate da Tiziana Palombio ormai è diventata un elemento fisso delle riprese qui al Pire è tutto pronto per scendere in campo agli ordini del signor Saccoccio di Itri andiamo subito a vedere le formazioni in campo iniziamo dalla squadra ospite dell'amatori Coreno che scende in campo con il numero 1 Angelo Ruggero 2 Scampone Angelo 3 Costanzo Mario 6 Lavalle Michele 7 Macare Orlando 8 Di Siena Vladimiro 9 Panzanella Nicola 13 Vento Salvatore 14 Ruggero Gaspare 15 Capasso Alessandro 17 Corte Domenico 18 Gargano Gianluca 19 Di Vito Giuseppe 25 Martone Angelo allenatore il signor De Siena risponde l'Atletico Virtus con il 33 Vernucci Walter il 2 Capitano Forte Luigi 4 Tommaso Ripa 5 Massimo Cantone 6 Paolo Matano 7 Pierluigi Capuano 8 Alberto Leggero 9 Iodice Carmine 10 Stefano Di Giuseppe 11 Dacunto Matteo 13 Chiappinello Silvio 14 Nocella Bruno 15 Di Matteo Giuseppe 16 Di Nardo 17 Conte Lorenzo 19 Filippelli per Paolo 20 Clemente Luca e 25 Pisano Daniele tutti le ordine del signor Vito Maiello Gara che è iniziata in questo momento con il pallone che arriva già in zona Vernucci con Chiappinello che si prepara al rinvio un 4-4-2 sembra quello messo in campo dalla Virtus Scauri in maglia verde intanto c'è il tentativo di affondo a parte del numero 16 Di Nardo che non riesce a concretizzare poi pallone nella zona del numero 5 Cantone che prova a mettere ordine Cantone deve ripiegare l'indietro su Conte che deve allungare su un agguerritissimo Magari che prova a portare l'attacco 4-3-6 invece per l'amatori Coreno Matano prova ad andare per via centrali buono il tentativo di triangolazione che non si chiude poi ancora un pallone che vaga lungo la mediana Cantone prova a mettere in avanti per Di Nardo Cantone lancia in profondità a servire sulla corsa il numero 9 Iodice buono il ripiego difensivo dalla squadra del Coreno campionato CSI che in realtà è nella zona del Frosinate lo Scauri è uno sbocco per questo campionato visto che non c'è nella provincia latina questo campionato CSI è un atletico Virtus Scauri che quest'anno alla prima partecipazione è riuscito comunque a centrare l'obiettivo dei playoff pallone fermo sulla tre quarti del Coreno subito il lancio in avanti bloccato da Chiappinello che mette a terra la sfera cerca compagni Chiappinello su Mista su Matano rimane un po' bloccato poi si riparte dal centrale difensivo Lorenzo Conte pallone ancora lungo la fascia destra per Di Nardo fase di studio tra le due formazioni forte oggi con la fascia di Capitano pronto alla battuta mette in movimento Di Nardo Di Nardo riesce a far filtrare il pallone non riesce però il tentativo della squadra scaurese sfera che si perde comunque in out per il momento prima grande occasione solo ed unicamente per lo Scauri con Iodice che non è riuscito comunque a concretizzare forte rimessa subito effettuata Di Nardo riesce ad avere la meglio prova a invalarsi lungo la fascia pallone fermato poi Cantone prova lui a gestire il passaggio in profondità di Cantone dove riesce a intercettare in qualche modo per un attimo da punto pallone comunque terminato in fallo laterale ancora una rimessa questa volta si tratta per le maglie bianche del Coreno prova il Coreno a venire su pallone in profondità Chiappinello di testa smorso il tentativo offensivo dopodiché sfera fuori per le maglie bianche che potranno di nuovo attaccare pallone lungo la mediana lancio in profondità Ripa fa buona guardia conserva il pallone non esce però la sfera aggressivo su di lui costretto a mettere in fallo laterale Ripa è stato Macari a portarsi bene in avanti buono questo colpo di testa di Chiappinello ad anticipare il numero 18 Gianluca Gargano ancora il Coreno però che rimane nella metà campo scavorese Matano bello il suo controllo di palla poi all'indietro per Ripa posizione di terzino sinistro si viaggia per vie centrali difensive passaggio verso Conte pallone controllato dal Coreno bello il tentativo per vie centrali ancora Chiappinello ci mette una pezza poi il pallone è comodo per Vernucci che può solo controllare e far sua la sfera da segnalare nello scavore anche il numero 18 Giancarlo Rubino non menzionato nelle formazioni tanto si viaggia per vie centrali con Conte tentativo di profondità buono per cercare Iodice poi pallone riconquistato dalla formazione del Coreno che prova ad attaccare ma c'è il gioco fermo per un infortunio a Iodice nell'ultimo frangente di gioco Iodice va a recuperare in zona panchina non credo che ci siano gli estremi per il cambio per Iodice pallone è riconsegnato allora alla formazione dello Scauri che può ripartire dal proprio portiere Vernucci mette in movimento Chiappinello ripa per Matano interno di centrocampo il passaggio a cercare Capuano non si concretizza per lui la sfera pallone fuori sarà il Coreno a giocare a cercare Macari ma il pallone è ancora lì bello il taglio a cambiare proprio gioco non c'è però l'aggancio da parte del numero 15 Capasso rimessa a trarre da battere con Capitan Forte Cantone un po' troppo lezioso poi dopo riesce a mettere in movimento ovunque Di Nardo Di Nardo per Matano va al centrocampista a cercare spazio non riesce nel dribbling ancora pallone nella zona di Forte buono il triangolo che si chiude con Matano Matano prova a mettere in avanti il pallone non può arrivarci con il numero 5 Massimo Cantone sfera sul fondo e rimessa che sarà affidata ai piedi di Angelo Ruggero pallone messo in movimento per Salvatore Vento Spignese ma in forza al Coreno quest'anno Vento bello il lasciabolato in avanti l'appoggio comodo da parte del numero 14 Gaspari Ruggero poi Chiappinello ancora una volta ci mette una pezza difensiva Cantone anticipa a metà campo Macari liscio per lui favorisce per Luigi Capuano il palleggio di Capuano a cercare Rubino buono il tentativo di Dacco c'è la chiusura di Scampone ancora Rubino però è Scampone avere la meglio Ripa buono il passaggio verso Capuano Capuano prova la penetrazione libero e servito per il cross che arriva ma non si concretizza per Rubino c'era arrivato il compagno di squadra pallone che ha praticamente rasentato tutta l'area della formazione del Correno per poi terminare in fallo laterale già battuto messo in movimento già Capasso Capasso viaggia per vie centrali verso il Correno tentativo di profondità forte c'è il controllo ma commette fallo il capitano delle maglie verdi deve ripiegare la linea difensiva a 4 di Vito Maiello arrivano i saltatori del Correno battuto il calcio di punizione molto basso Gargano tentativo di cross quasi un tiro che comunque non impensirisce il portiere Vernucci pallone sul fondo a giornata oggiosa non ha favorito il pubblico qui a Scauri gara di ritorno in questi playoff all'andara si impose proprio la formazione dello Scauri sul campo di Correno Conte lancia profondità Matano controllo mette in movimento Ripa Ripa dripping secco su Gargano tentativo di profondità cercare Iodice Iodice si è ripreso dall'infortunio precedente contro tempo Rubino può arrivare sulla metà campo coberò Di Nardo a controllare Di Nardo cerca la profondità ancora per Iodice che si era proposto bene a metà tra l'offside e la linea difensiva Chiappinello scivola in qualche modo riesce a controllare anticipa Gargano poi ancora Chiappinello Chiappinello prova a involarsi quasi in posizione di terzino lui che è sempre stato un centrale difensivo di ottima fattura Conte poi accompagna il pallone in zona Pernucci si riparte subito dall'altro lato con Forte il passaggio verso Chiappinello Chiappinello dialoga con l'altro centrale difensivo Conte passaggio verso Cantone Forte tentativo di angolo che si conclude poi Cantone il passaggio in profondità che però è preda dalle maglie bianche poi Rubino messo giù fallosamente da parte del numero 19 Giuseppe Di Vito a terra Rubino ineccepibile fallo per il signor Sacoccio pronto a segnalare l'infrazione calcio munizione in profondità chiude la difesa del Coreno poi Matano conquista un pallone sulla mediana errore di Di Vito ancora Matano il dribbling velocissimo nel dribbling Matano Di Nardo Di Nardo ancora a cercare il tentativo di cross chiuso ma c'è ancora una seconda possibilità pallone in mezzo alla difesa chiude il Coreno poi il tiro controllato di Cantone da parte di portiere Angelo Ruggero si parte con il Coreno allora che tenta di stendersi in avanti ma praticamente la linea difensiva dello Scauri è sulla mediana Matano mette giù il pallone palleggio per lui poi serve Tommaso Ripa Rubino all'indietro ancora per Capuano in mezzo a cercare per un attimo Iodice ma non arriva il pallone Chiappiniello supera la mediana ci sono tante maglie bianche Chiappiniello prova a mettere l'utine va in avanti ancora in solitaria ancora Chiappiniello c'è possibilità per il cross arriva in questo momento il cross Rubino il colpo di tacco parato dal portiere Ruggero ottimo colpo di Reni del numero uno del Correno buona per l'iniziativa anche di Chiappiniello che ha seminato avversari come si fa col grano in autunno calcio d'angolo da battere per le maglie verdi pallone altissimo a rientrare di testa in qualche modo Chiappiniello poi la rovesciata di Rubino e ancora una volta Ruggero ci mette una pezza confronto ravvicinato Ruggero Rubino per la seconda volta la meglio il portiere fallo laterale Capuano Matano mette giù il pallone forte il passaggio a cercare di Nardo non si intendono i due palla che finisce in fallo laterale lo scavoli che praticamente languo in fase difensiva tutti i giocatori sono in attacco Rubino caccia del pallone poi in mezzo bello il servizio per Cantone controllo e tiro ancora Cantone affanno la difesa del Coreno poi il tiro di Capuano ancora una volta Ruggero da 9 in pagella questo inizio di partita per Ruggero palla messa in fallo laterale con Tommaso Ripa che potrà mettere in movimento il pallone servito Cantone Matano Macari aggressivo favorisce il controllo di Gargano chiuso dal ritorno di Ripa poi Chiappinello preferisce viaggiare per via comode con Conte Conte costretto al dribbling in mezzo a tre uomini riesce a servire forte il capitano si stiende lungo la fascia va forte passaggio corto triangolo che si chiude con Di Nardo poi forte non riesce a controllare sfera fuori ancora una rimessa laterale da battere allora per la formazione del Coreno 0 a 0 per il momento il risultato quando ormai si gioca da quasi 15 minuti pallone per lo Scauri il controllo di Iodice sfera che rimane lì un bel gruppetto di uomini dopo di che la sfera si ferma fuori ma la rimessa ancora per le maglie verdi tentativo di Gross ci sarà ancora calcio d'angolo corner da battere da battere per lo Scauri pallone teso in mezzo Rubino con un braccio bloccato il pallone era riuscito nella deviazione volante Giancarlo Rubino calcio e punizione battuto già per la formazione del Coreno magari magari a cercare Gargano in avanti ha preso il tempo arriva Conte in gran velocità a proteggere Vernucci blocca il ma buono lo spunto offensivo di Gianluca Gargano che ha trovato un ottimo corridoio Tommaso Ripa blocca il proprio impeto sulla linea mediana poi Capuano il bello il controllo di Divito Rubino appoggia bene per Capuano mezzo a due Capuano riesce comunque a uscire si va per vie centrali per Matano Matano perde l'appuntamento con il pallone ma riesce comunque a favorire Di Nardo ancora Matano che si propone sulla destra riesce a servire al mezzo Di Nardo Iodice esce Ruggero protetto dalla propria difesa Iodice si stava per tuffare in una spazio aperto dall'errore difensivo del Correno comunque il fortiere ci ha messo una pezza Vento gli soffi il pallone Di Nardo però la sfera è fuori rimessa allora di Salvatore Vento pallone toccato da Capasso Capasso non riesce a controllare il pallone rimessa che sarà ancora una volta per le maglie verdi che provano a premere per cercare il vantaggio in questo primo tempo Correno che Tiralo è riuscito ad arrivare nella zona del portiere Vernucci in mezzo un po' di uomini Cantone poi pallone per Matano Matano all'inghiero con Conte ultimo uomo Conte Semina Gargano per fortuna non è lesso su di lui l'attaccante Chiappinello cercare la profondità per Capuano che però è terminato fuori sia nel gioco che dal campo e pallone allora da giocare per la squadra del Coreno che prova a stendersi adesso in avanti a cercare respiro in avanti Matano il suo controllo di Vito commette fallo pallone da controllare allora è da battere per la formazione della Virtus tra l'ico Virtus Scauri che va con Cantone a cercare il lancio in profondità Capuano cerca di rubare la sfera riesce nel controllo poi dopo di che su di lui interviene il numero 25 anzi 23 della squadra ospite che al momento non è segnalato in distinta ci andremo ad accertare dopo del numero 23 pallone in profondità per il numero 15 Capasso pallone che si ferma però e poi il numero 14 Ruggero Gaspar Ruggero un po' fa l'altro che accompagnarlo sul fondo del campo tentativo abortito allora rimessa di Conte anticipato Cantone Gargano si gira al volo bella la semi rovesciata per lui di poco sopra i pali difesi da Vernucci che comunque sembrava pronto sull'arrivo del pallone Vernucci posizione il pallone per Conte la botta di Lorenzo Conte spiove sulla linea mediana controllo di Ruggero cercare Gargano Gargano il tiro di prima intenzione non ha visto ben 4 uomini in avanti per il coreno e allora si riparte da Vernucci che comincia a scaldare i guanti praticamente si fa per via centrali con Matano Cantone a cercare Capuano Capuano entra palla al piede e c'è il gol anzi no arriva il gol palo e poi gol di Capuano che tutto solo è entrato da sinistra e ha messo dentro per Luigi Capuano 1 a 0 per lui quando siamo praticamente al 25esimo del primo tempo passa in vantaggio la Vistus l'Atletico versus Scauri 1 a 0 firmato Pierluigi Capuano che ha sorpreso entrando da sinistra la difesa del coreno e colpito l'incolpevole praticamente portiere Ruggiero che si è trovato solo davanti l'attaccante avversario si torna sulla linea mediana al 25esimo si riparte 1 a 0 cambiato il risultato qui al pire Vento è proprio nel momento migliore del coreno è andato a colpire l'Atletico Virtus Scauri Cantone il passaggio verso Capuano che sulla sinistra cosa di ottima libertà si propone Ripa preferisce servire Rubino Rubino prova a superare ben 4 maglie bianche dopo di che commette fallo Cantone pallone fermo e si riparte allora Di Vito per vie centrali il coreno Di Nardo fa buona guardia si impossesse il pallone prova a salire il passaggio verso Cantone Cantone ancora con Di Nardo c'è la possibilità per il cross vediamo se arriva teso in mezzo Iodice fallosamente con un braccio va a deviare nulla da fare per lui e poi c'è fallo su Di Vito dovrebbe essere stato Cantone a commettere l'infrazione tentativa abortita allora di ripartenza la formazione del coreno si riparte allora Di Vito il tentativo approfondirà Chiappiniello e in anticipo chiude di testa pallone che però è ancora giocabile per il coreno passaggio che non si concretizza da parte del numero 23 della squadra ospite allora sarà Vento a mettere in movimento per le maglie bianche Ruggero Gargano bello il colpo di tacco di Ruggero ancora Ruggero non riesce nello stop poi Capuano fa salire i suoi Capuano si propone anche Ripa in appoggio servito in questo momento Ripa arriva su lui di Macari si riparte indietro con Capuano profondità a cercare Iodice terminato in offside Iodice fuori gioco e allora sarà il Correno a battere sul tre quarti a cercare la profondità su Gargano che praticamente galleggia sulla linea del fuori gioco Gargano pallone sciabolato toccato a Ruggero magari cambia gioco nella zona dove Capitan Forte rispinge la sfera di Vito domestica la sfera poi chiami in avanti i suoi qualcuno che gioca con Macari controlli un po' superficiali poi Rubino mette giù il pallone prova a organizzarsi con Di Nardi Di Nardo bello il pallone in mezzo ma è finito in offside Capuano il campo del Piro è sempre stato soggetto al vento infatti abbiamo visto in questa occasione il pallone quasi fermarsi Cantone sulla linea mediana Di Nardo Rubino si propongono in tanti riesce ad andare indietro su Matano Matano poi all'indietro per Conte ultimo uomo Di Nardi pallone in profondità Cantone ha possibilità di viaggiare su di lui arriva Vento Cantone il passaggio in mezzo Ruggero blocca tutto tentativo di profondità esce Lorenzo Conte Lorenzo Conte la chiusura su di lui ancora del Corriano che difende in questo momento Cantone possibile venire in avanti passaggio in mezzo riesce Iodice ad agganciare però arriva comunque sul pallone Iodice suo tiro fuori non c'è nemmeno corner per lo Scauri sarà allora rimessa per il portiere Ruggero che fino a questo momento ha avuto come un'unica pecca il gol subito Macari a cercare Ruggero anticipato Chiappinello bravo Chiappinello comunque a domesticare il pallone poi Matano Cantone Capano che si è un po' accentrato ancora Matano quasi da centro mediano si parte indietro da Conte se lui pronto e aggressivo il numero 14 Gaspari Ruggero Cantone gode un po' di libertà cercare Iodice non riesce l'aggancio il numero 9 Gano poi pallone in profondità può uscire Walter Vennucci scende a terra e si prende il pallone Matano Capuano da mediano puro quasi Capuano esterno sinistro di questo Virtus Scauri quasi si sovrappone in alcuni casi con Ripa bello questo sombrero fermato per la Virtus Scauri ma bellissimo il sombrero da parte di Capuano genio sregolatezza per Luigi Capuano una carriera quasi sempre per lui su queste su questi numeri Chiappiniello quasi un valser per lui per via centrali a cercare Cantone sfera arrivata docile per il portiere Ruggero si viaggia per via centrali con il Correno che va a smistare per il numero due Scampone Scampone per Macari chiude preciso Tommaso Ripa rimesso allora da battere per Angelo Scampone quando ormai siamo intorno alla mezz'ora di Vito controllo macchinoso ma comunque sbagliato poi Rubino lotta attaco Scampone ancora Rubino poi la sfera termina fuori ci sarà Angolo ultimo tocco del difensore del Correno atterra un giocatore del Correno anzi no un giocatore dello Scauri si è fermato Rubino se non sbaglio chiede il cambio e questa è una brutta carta da pelare per Maiello si ferma Rubino allora accelera il riscaldamento leggero cambierà qualcosa perché leggero è un centrocampista almeno che non abbia cambiato ruolo ultimamente Rubinare un centro avanti Capuano pallone in mezzo di testa rimesso in mezzo bello il controllo poi fuori la sfera la parte del numero nove iodice c'era qua sicuramente un cambio di modulo con l'uscita di Rubino e l'ingresso di leggero con il numero 8 a meno che non si vada a sovrapporre Capuano come seconda punta pallone per vie centrali corriendo con Scampone passaggio in profondità a cercare Gaspar e Ruggero profondità nella zona di Capitanforte che lascia tranquillamente scorrere la sfera fino all'out rimessa effettuata ma bisognerà ripetere c'è l'ingresso di Alberto la leggero sulla meta a campo mentre esce mestamente con Rubino rimessa dare le battute e allora si verifica il cambio di posizione intanto un pallone che arriva in mezzo Vernucci quasi non è approfittato magari si sposta in avanti Capuano Cantone defilato sulla sinistra e quindi in mezzo ci vanno Matano e Leggero vedremo cosa cambia adesso nel quadro difensivo dello Scapri che rischia un po' di schiacciarsi con due giocatori come Leggero e Matano che stanno quasi sempre a copertura della propria difesa Matano quasi da esterno poi perde il rimbalzo con Gargano Ruggero bellissimo la parabola e grandissimo gol di Ruggero numero 14 1 a 1 Gaspari Ruggero per il Coreno su un errore di Matano firma l'1 a 1 quando il cronometro indica il 35esimo minuto e cambia subito praticamente la situazione per lo Scapri dopo 10 minuti il gol di Capuano arriva il pareggio di Ruggero che con la parabola aiutata anche dal vento ha sorpreso il portiere Vernucci leggero Capuano il controllo il tiro poi di prima intenzione e ci mette subito una pezza Capuano non ci arriva Ruggero e Capuano mette subito le cose in chiaro 2 a 1 al 36esimo Ghepensimi Capuano e praticamente ripristina le cose per la squadra di casa si riparte allora con Salvatore Vento sulla mediana un Coreno che è arrivato ad un ottimo gol del pareggio leggero in mezzo a tre uomini riparte indietro forte forte buono il controllo con due piedi addirittura una bicicletta Conte aggressivo su di lui Gargano la chiusura di Chiappiniello poi leggero si perde il pallone arriva Matano quasi un pitbull si riprende la sfera Chiappiniello esce con un altro passo dalla difesa palla conquistata dalla formazione del Coreno che prova a risalire in avanti Matano spara in fallo ladrale rimessa battuta pallone che spiove in avanti leggero la domestica prova a mettere in movimento Cantone che da quando si è spostato sulla fascia sinistra è un po' uscito dal gioco poi c'è fuori gioco per Capuano calcio di punizione sulla tre quarti quando comincia a scorrere via il primo tempo palla in profondità l'anticipo di Matano mette in difficoltà forte controlla la sfera svirgola poi Ruggero va a cacciare il pallone Conte ci mette una pezza arriva poi Di Nardo il piego difensivo che però non è riuscito al giocatore di casa Scauri rimessa da battere per Conte e per Venn bello Ruggero si era liberato bene poi arriva la chiusura e il fallo da parte di Luigi Forte gamba tesa da parte del Capitano e calcio di punizione in aria va a posizionare la barriera e qui il Correno potrebbe sfruttare praticamente il vento del Pire c'è anche il 6 qui davanti Michele Lavalle pronto a saltare il centro difensivo Ruggero e Gargano sul pallone Gargano il pallone rientrare buona iniziativa ma non riesce la parabola al giocatore del Correno messa da battere per Walter Vernucci chiama i suoi a salire a non schiacciarsi Maiello per i vie centrali Conte poi Cantone Ripa all'indiro per Chiapiniello Gargano arriva su lui Chiapiniello comunque elegante Cantone non riesce ad agganciare poi Sfera che arriva nella zona di Leggero Leggero ordina il pallone poi va a cercare in avanti Cantone ma è tutto chiuso in quella zona di campo il Correno che al momento costringe sulla mediana la Virtus Scauri Vento Matano in qualche modo lotta sul pallone poi Iodice Iodice il suo aggancio in mezzo a due uomini non riesce comunque a passare nel chiusuro del Correno poi ancora Di Nardo il pallone altissimo in mezzo viaggia il portiere Ruggero conquista la sfera la mette al sicuro pallone comodo per Di Vito puntatazza in avanti di testa forte Di Nardo compagna la sfera fuori il Correno e rimessa che sarà allora per Vento Di Vito ancora Vento bello a cercare un compagno in avanti la chiusura da parte di Conte che fa viaggiare Capasso Leggero mette in movimento Matano si gira verso Ripa Ripa all'indietro per Chiappiniello Chiappiniello attacca subito Ruggero Gargano e Ruggero sono i due incursori di questa formazione di Correno adesso Ruggero a servire Capasso non si la vede il pallone Capasso chiude Lorenzo Conte Salvatore Salvatore Vento mette in movimento il pallone il controllo Capasso in mezzo a cercare il ponte di testa esce Conte Di Vito a cercare Gargano Cantone va a cercare Capuano lui ma la chiusura è pronta il less da parte di Mario Costanzo Ripa cercare Capuano è sceso il potenziale in attacco con l'uscita di Rubino dello Scauri sciabolata in avanti di Vento pallone che termina al di fuori del Pire rimesso da battere allora per Forte Matano passaggio verso Chiappiniello Ripa ancora Ripa in mezzo a due uomini poi Chiappiniello Leggero profondità bello per Capuano vediamo se riesce ad agganciare il pallone su di luce in anticipo Costanzo mette ordine il centrale difensivo del Coreno poi si riparte con Ripa il terzino sinistro di Maiello prova a venire in avanti si va per centrale con Alberto Leggero uno che ormai calca questo campo da tanti anni sfera che però termina fuori nel suggerimento a Cantone pallone per via centrali Di Vito mette ordine poi arriva Cantone si prende la sfera siamo al 43esimo rimessa laterale da battere allora ancora per la formazione dello Scauri Cantone Cavano dai e vai 3-2 ancora Cantone sfera fuori rimessa da ribattere in quella zona con Matano chiama la sveglia Vernucci vuole i suoi un po' più aggressivi pallone che però è preda di Di Vito Di Vito mette in movimento Gargano anticipato da Chiappiniello Chiappiniello dialoga con Matano Matano per Leggero cercare in profondità per Forte arriva Ruggero si prende lui il pallone subito per Macari che quasi commette un errore si porta la sfera fuori è stato scampone no Macari a mettere il pallone fuori vento fondamentale in questi controlli sul pire storia ormai risaputa da anni Chiappiniello arriva Gargano sempre pronto a insidiare il portatore di palla leggero ancora leggero porta spasseggio la sfera poi all'indiero per Matano controllo di Cantone di Nardo si sono accentrati i giocatori i centrocampisti soprattutto della Virtus ultimamente si crea soprattutto un ingorgo per vie centrali in questo modo mentre siamo ormai prossimi al finire del primo tempo Iodice non aggancia riesce comunque nel secondo tentativo passaggio sbagliato da Coreno Iodice prova a passare in mezzo a due sceglie forse la via più complicata Fran a terra il numero 9 sarebbe una bella grana per Maiello il giocatore a terra Gargano Ruggero si propone in avanti magari si ferma per non finire il fuorigioco Gargano Bernucci comodo il pallone recuperato poi la passa praticamente a Ruggeri Ruggeri arrivano in due su di lui sia Ripa che Cantone mette fuori lo stesso Ruggero si riparte in giro allora da Chiappinello Chiappinello sempre un dribbling per lui Conte per Leggero avanti per Iodice Iodice per Matano sciabolata il tocco di Scampone favorisce Cantone Cantone entra palla al piede in aria chiuso da Ruggero termina fuori il tiro di Cantone la motta tra Ruggero e Cantone pallone già rimesso in gioco si va per via centrale Costanzo non riesce ad agganciare Casparo Ruggero alla caccia del pallone Gargano c'è Chiappinello favorisce l'uscita di Vernucci quasi sulla soglia della propria area di competenza Chiappinello chiama il recurro il direttore di gara per esserci due minuti Gargano non riesce nel controllo di testa comodo per conto il pallone leggero galleggia lo Scauri che non è più riuscito a fornire sortite offensive dall'uscita di Rubino se non il gol di iniziativa personale con Capuano rimessa l'altra allora per vento quanto ormai l'arbitro è quasi pronto a mandare le squadre negli spogliatoi questa sosta di metà partita pallasteri nella zona di Ruggero Costanzo Gaspari Ruggero mette in movimento Scampone passaggio a cercare magari Chiappinello la meglio su tutti riesce a tenere il pallone poi Conte a caccia su di lui Gargano Conte cerca il dribbling più veloce di Gargano dribbling di Conte l'arbitro blocca tutto e dice che si va gli spogliatoi doppietta di Capuano venticinquesimo e trentaseesimo intervallato dal gol di Ruggero al trentacinquesimo questi gol linea che va alla ripresa si riprende a giocare per il secondo tempo si riparte dal 2 a 1 le immagini sono ancora una volta di Tiziana Palombi Scauri che attaccherà verso la parte bassa del teleschermo intanto Iodice subito il suo controllo a secco di gol il numero 9 di casa Scauri forte per Leggero unica sostituzione al momento quella di attuato da Maiello con Rubino che è uscito ed è entrato Leggero Chiappiniello per vie centrali Chiappiniello poi il pallone termina fuori pallone in zona Chiappiniello allora il controllo bello a seguire per Conte Conte la mette sulla velocità semina di bello poi ancora Conte la sfera termina fuori sul controllo da parte di Scampone Conte rimessa verso Iodice sfera messa fuori da parte di Vento Di Nardo a cercare Leggero intanto è arrivato anche il dirigente Felice Peluso che va a controllare il campo Prassi per lui all'inizio di secondo tempo di controllare il campo chiamato il fallo Scauri che ritorna in fase difensiva pallone che sarà da giocare per la squadra dello Spigno che ripartirà dai piedi del numero 6 Michele Lavalle Lavalle tentativo di profondità sfera lunghissima Vernucci esce Comolo si prende il pallone pallone già messo in movimento a cercare Chiappiniello Chiappiniello troppo del tuo pallone si perde la sfera arriva bello in avanti il numero 7 Macariman pallone contro la Vernucci ancora Chiappiniello lezioso in questo frangente mette la sfera fuori mentre si sta scaldando Filippelli arriverà il secondo cambio per lo Scavri pallone messo in mezzo arriva alla parte del numero 5 Martone anche lui è entrato in campo in questo secondo tempo sono due cambi è entrato Martone nella formazione dell'ospite del Coreno Martone che praticamente dà profondità in attacco per la squadra che deve recuperare tanto di Vito palla spazzata via dallo Scauri Cavano si mette giù il pallone c'è sotto Iodice lungo la stessa faccia macchinoso il controllo Iodice non riesce comunque a controllare Vento subito messo in movimento a cercare Martone Martone per Di Bello poi Matano profondità per Capuano fuori gioco ma se c'era era millimetrico forse era Iodice in fuori gioco ma si era disinteressato del pallone Iodice Lavalle di Vito Martone il controllo di Ruggero il pallone è gestito dal Coreno messo in avanti da Scampone il controllo di Chiappiniello in mezzo per Di Nardo Di Nardo attaccato a Di Vito poi forte in mezzo il dribbling a seguire ancora Di Nardo pallone che non trova un proprietario sulla mediana spazza via il numero 3 Costanzo controllo di Conte poi forte ancora Conte Matano ancora Matano a cercare Iodice Leggero non riesce a controllare il pallone poi il tentativo di profondità da parte del numero 14 Gaspare Ruggero Sfera termina da fuori ultimo tocco di Chiappiniello rimesso allora di Scampone che potrà gestire il pallone per i suoi tentativo di grosso in mezzo Conte controllo in due tempi poi spazza via la Sfera ancora una volta da dove era partita praticamente per Scampone che dovrà rimettere con le mani Scampone va a cercare Gargano Chiappiniello di testa lontana cercare Iodice Proluga Cantone mette sulla corsa per Capuano che ne ha da vendere arriva Capuano in gran lena ma chi non si è controllo in mezzo poi Capuano anticipato al momento del tiro da un ottimo dipiego difensivo di Michele Lavalle ovviamente fatto il 100 metrista Capuano in questo frangente però il pallone è terminato fuori è messa laterale Cantone a cercare il controllo di Leggero dopodiché praticamente il pallone finisce fuori quasi in tribuna per lui Ruggero chiama i suoi ad avanzare lascia poi la rimessa alla valle la valle pallone lunghissimo nella zona di Gargano riesce comunque nel controllo Gargano poi favorito dal tocco di Chiappinello mezzo per Ruggero i due attaccanti poi cercava un centrocampista supporto Ruggero non ci sono uomini però in maglia bianca in quella zona di campo sarà allora Conte a mettere in movimento il pallone per Leggero Alberto Leggero la mette in avanti per Iodice se di lui la valle Iodice ne salta uno dopo di che arriva Vento pronto quasi Filippelli la notte numero 19 rimessa che sarà da effettuare con le maglie verdi sale capitano forte avanti per Iodice Iodice va a cercare il cross vediamo se riesce nella propria iniziativa è chiuso ormai da due uomini forte non riesce a metterla in mezzo messa che sarà da giocare allora per la valle la valle osserva la posizione dei propri compagni sciabolata a Preda di Conte vediamo Di Nardo se riesce a intervenire poi su di lui Vento ancora una volta un pallone messo fuori ultimo tocco proprio di Di Nardo pallone battuto per Di Vito c'è Fallo forse non ravvisato viene ravvisato in questo momento pallone che sarà battuto allora dalla formazione del Coreno ancora sotto 2 a 1 ancora la valle che dall'inizio secondo tempo sta giocando in maniera reggistica palla avanti tanto il Coreno quasi pericoloso poi magari non trova una bella soluzione pallone fuori rimessa che sarà da giocare per la formazione scavrese Conte pallone in profondità il controllo di Di Nardo buono il suo tocco arriva Vento che accompagna la sfera fuori pronto Filippelli allora arriva il cambio il 19 dentro esce Capitano Luigi Forte applausi per lui si sposta la fascia di Capitano e Luigi Forte va a riposare in panca fascia di Capitano che passa proprio a Filippelli 2 a 1 in questo momento non cambia i risultati in questo secondo tempo tra le due formazioni ci sarà rimessa da giocare per il Coreno anticipato Di Vito intanto è finita la ricognizione del campo da parte di Felice Peluso si torna in campo con Cavuano che cerca il pallone ma non riesce a controllare in questo momento il buon Felix un'ex gloria passata del calcio scaurese molto passata come ha tenuto a sottolineare pure lui Di Nardo sul campo contro Di Vito riesce a controllare poi Filippelli il primo tocco è sbagliato palla fuori è messo di vento allora a cercare Di Bello pallone in avanti e pedalare questo sta facendo il Coreno controlla adesso con Gargano il suo bel tiro chiuso da Chiappiniello Scampone alle prese con Chiappiniello ancora lotta il giocatore scaurese poi mette ordine Costanzo spazio in avanti comodo per Vernucci questo suggerimento ancora in avanti il portiere nel rinvio a cercare Cantone buono il suo stop alle prese con Scampone Ripa sciabblato in avanti Di Vito cercare in avanti Gargano che era sul filo del fuorigioco si interessa però del pallone attaccante poco concreto in avanti il Coreno gara che comunque si sta giocando tutta sulla mediana per il momento con lo scopo che deve solo controllare in realtà dovrebbe essere il Coreno a fare la gara Di Vito passaggio verso Di Bello anticipato poi prova a mettere ordine leggero tutto chiuso Manivoli uomini poi prova a mettere ordine il numero 5 Martone non si è concretizzato oggi il derby in casa Martone assente Nicola che gioca nelle file dello Scauri Vernucci controlla lui il pallone pronto al rinvio palla che spiove nella zona di Di Vito bello il colpo al volo di Di Vito poi tutto al volo con Ripa non è precisissimo sfera che termina fuori pallone messo in mezzo la chiusura di Chiapinello mette giù la sfera prova a ordinare le idee servito leggero Di Nardo prova lui a sfuggire a Di Vito in avanti a cercare lo dice che però si è recentrato lo Scauri con due attaccanti e mezzo vorremmo dire così in questo frangente il rilancio di Ruggero spiove nella zona di Cantone anticipato da Macari dal tentativo di riusciare a cercare Gargano poi palla che termina fuori tanto galleggio sulla mediana Martone pallone messo a centro aria spazza in qualche modo la Virtus dopo di che l'arbitro blocca tutto signor Saccoccio di Itri ha ravvisato un'infrazione mentre si scalda Giuseppe Stefanelli pronto ad entrare anche lui in contesa pallone in profondità caccia Cantone anticipato dal numero 2 Scampone il controllo di Capuano porta a passeggio la sfera Ripa per Capuano il suggerimento a cercare Cantone Scampone comunque in anticipo Scampone controlla la sfera poi arriva anche Martone a dargli Manforte Pallone controllato da Vento poi la Valle la mediana magari poi leggero si prende lui il pallone leggero tentativo in avanti per Cantone abbattuto letteralmente da Vento c'è fallo sul numero 5 Virtusino Calcio a disporre la difesa la barriera il portiere Ruggero parte il pallone di Leggero stupenda stupenda così non si può dire altro Alberto Leggero il gol di Alberto Leggero 3 a 1 preciso il pallone di Alberto Leggero che praticamente ha dimostrato di avere un'ottima parabola ancora nei piedi il gol del capitano quando praticamente capitano morale vorremmo dire così Alberto Leggero di questa formazione Virtusina quando il cronomo dice che è il ventesimo del secondo tempo circa Chiappiniello il suo controllo a seguire non riesce a favorire il cantone che si era conquistato il fallo sul quale può leggere il gol pallone fuori e ci sarà cambio fuori di Nardo entra il numero 15 di Matteo è messo allora di Filippelli cambio allora di battuta sarà per la formazione del Coreno uscito di Nardo di Matteo cortesia restituita allora Conte per leggero fallo di Marlo del numero 19 di Vito commette fallo sarà di Vito a mettere in movimento il pallone di Vito si è ravvicinato al pallone Filippelli controllo in area di Ruggero ma c'è fallo calcio di munizione allora era al limite dell'area Ruggero pallone che sarà da giocare per il Coreno che è presente sul limite dell'area di rigore della squadra dello Scauri tutto pronto per battere il calcio di munizione arriva adesso l'ok per Ruggero bella la sua parabola e questa volta Vernucci si guadagna il voto in pagella volato a togliere il pallone dalla propria porta Vernucci di Vito poi Ruggeri spazza altissimo il pallone tanto pronti altri due cambi applausi per Vernucci che lascia il campo entra il numero 25 Pasquale Pisano a difendere i pali scauresi Vernucci che praticamente ha salvato dal gol su questa punizione lo Scauri Pisano in porta Vernucci che va a riposare in panca accompagnato da tutti i piccoli di casa Virtus di questa tra di Virtus Scauri rinvio allora battuto da Chiappiniello ancora 3 a 1 il risultato dopo il gol di Alberto Leggero in questo secondo tempo stesso Leggero lotta a me da campo si vende il pallone controllo di Odice abbattuto dalla difesa del Corino non c'è fallo scampone il controllo di magari problemi per lui c'è fallo infatti da parte di Cantone un Corino che ha praticamente i cambi contati pallone che sarà da giocare per il Corino che in questi ultimi rangenti si sta stazionando sulla zona mediana del campo di competenza della squadra dello Scauri calcio punizione pallone che spiove in aria Pisano addomestica la sfera ed è pronto a ripartire Pisano al rinvio ribatti ribatti sulla mediana alla fine il pallone conquistato da Conte ci mette una pezza di Matteo ancora Conte spostandosi a terzino con l'uscita di Forte poi l'uscita di Ruggero e lui a conquistare il pallone Vento spazza via il pallone nella zona di competenza di Leggero che mette giù la sfera il pallone che spiove a me la campo leggero Capuano ripese con la valle di fisico Capuano si fa valere poi cerca il dribbling non riesce a passare su questa zona del campo Conte quasi un cross per lui la valle allontana il pallone poi Ripa ha centrato Ripa tagliato tutto il campo sfera fuori rimessa che sarà da giocare ma arrivano due cambi dentro Stefanelli se per Stefanelli dentro saremo a vedere esce Paolo Matano Applausi per Matano esce Matano dentro Stefanelli capuano lascia il campo allora Pierluigi Capuano l'autore della doppietta va dentro il numero undici Matteo D'Acunto il lancio di la valle che si perde sul fondo D'Acunto sono cambiate le carte in tavola mentre il Peluso Press accompagna l'autore di una doppietta Pierluigi Capuano quest'oggi due gol per lui pallone rilanciato in avanti Cantone mette ordine prova a scappare via Scampone poi Stefanelli si prende il pallone la riprese con Costanzo Ripa messo a terra fallo per lui calcio punizione che sarà da battere allora per la squadra dello Scauri che al momento conduce per 3 a 1 sarà da conto a battere il pallone mentre salgono tutti gli attaccanti addirittura in 5 a galleggiare 4 a galleggiare sulla linea dell'offside Iodice pallone che gli spiove davanti Ruggero comodo attende solo l'arrivo della sfera non si era avvisato del controllo del pallone Iodice Tacunto Conte in avanti a cercare Stefanelli fuori gioco secondo il signor Saccoccio pallone già battuto per la valle la valle cerca in profondità Di Matteo in posizione di centrale difensivo Di Matteo con Lorenzo Conte che si è spostato a terzino destro con l'uscita di Forte calcio d'angolo per Gargano e compagni in questo secondo tempo però non hanno fatto più così tanto il duo Ruggero e Gargano lì davanti ben arginato sia da Conte che da Chiappiniello rimessa allora del Salvatore Vento pallone per Gargano sfera fuori rimessa che sarà ancora da gestire per la formazione del Coreno Amatori Coreno pallone in mezzo serie di batti e ribatti Ripa allontana la sfera poi li fa con il numero 17 Conte ancora Vento possibilità di contro cross taglia tutta l'aria rinvia di Davunto che non riesce sfera fuori ci dovrebbe essere stato anche un palo se non vede un po' difficile qui a 100 metri di distanza pallone messo in mezzo tentativa di riusciata non riuscito poi allontana lo scauri l'appoggio di Odice di gran carriera Cantone praticamente semina avversari Cantone prese con Martone ancora Cantone si presenta in aria il dribbling a rientrare arriva su di lui anche Martone in mezzo a tre uomini Cantone messo giù ci dovrebbe essere rigore l'arbitro non lo chiama Iodice supera tutti gli avversari poi di che svirgola clamorosamente l'occasione Iodice aveva fatto tutto bene Cantone poi Iodice si è mangiato ovviamente un gol la valle può ripartire allora il Correno che cerca il controbalzo dall'altra parte chiude di Matteo c'erano forse gli estremi per il rigore su Cantone l'arbitro ha definito non fallosa l'azione sul giocatore Ripa passaggio in mezzo per Cantone non riesce a conquistare la sfera Divito Lugiero che arriva addirittura nella zona di Scampone Scampone viene in avanti 3 a 1 per il momento lo Scauri gioca sul velluto palla messa in mezzo Gargano il suo stop ancora Gargano passaggio verso Divito dai e vai provano a creare spazio il tiro di Gargano palla altissima sopra i pali difesi ora da Pisano Pisano il pallone gestito in avanti bello il colpo di petto a seguire di Odice poi Pisano anzi evento pallone spazzato via di Bello anticipa Filippelli controllo di Chiappiniello di Matteo Conte ancora Conte dribbling per lui arriva Martone però a chiudere la strada sfera a seguire per Cantone Costanzo il liscio che inganna anche Cantone risale Scampone passaggio davanti per Ripa Cantone mette in mezzo per Iodice Iodice il suo controllo a seguire non c'è nessuno in aria arriva Stefanelli Iodice colpo molto leggero poi Stefanelli quasi un colpo ninja per lui chiuso leggero Davento che sradica il pallone da Cunto mette l'ordine sulla mediana da Cunto passeggio con la sfera Ripa bel senso di cogliardia però accompagna questa squadra tutti lì a giocare insieme Cantone di testa pallone dentro e c'è il gol 4 a 1 Cantone anche a segno Massimo Cantone va ad arrotondare il risultato di testa anticipa Ruggero quando siamo al trentese Correno che ormai è lontano dal agganciare il pareggio tanto esce una piccola sfera di sole qui sul pire quasi al tramonto il pallone gestito a scampone il pallone controllato la Ripa che si rifugia in fallo ladrale sarà rimessa ancora per il Correno che fino a questo momento non ha impensierito né Vernucci né Pisano in questo secondo tempo passaggio lunghissimo che non sortisce effetti pronto a rinvio allora la squadra in maglia verde il controllo di Odice che sta trovando buoni spazi in questo secondo tempo passaggio a cercare da conto bello a tagliare per Leggero che non riesce ad arrivare sulla sfera il pallone velocissimo per lui difficile da gestire il passaggio in profondità di Cantone che praticamente arriva a comodo per Ruggero sfera che si perde in fallo laterale rimessa di Ripa pallone da scaramentare in avanti per lo scavricchia Piniello passaggio in avanti che si ferma in fallo laterale il colpo in avanti di Costanzo pallone da giocare per la formazione scavrese controllo di Cantone scaramente in avanti a cercare di Odice ma la chiusura di Costanzo arriva ancora Cantone ma Costanzo va meglio riesce a prendersi il pallone serie di batti ribatti poi Di Matteo controlla il pallone arriva su di lui Ruggero Ruggero a caccia dalla sfera il tiro di potenza Pisano comodo riesce comunque a resistere Conte si accentra poi va a cercare da Conto da Conto in cespica sul pallone era pronta a scappare via Iodice pallone suggerito in avanti per Stefanelli chiusura di Bello Iodice tutto solo può fare un sombrero Iodice dentro il pallone anche per lui 5 a 1 assegno anche Iodice Carmine Iodice è festa ormai in casa a scauri a lungo cercato il gol da Iodice alla fine è riuscito a metterla dentro si arrotonde il risultato allora 5 a 1 5 a 1 e si torna sulla mediana intanto viene richiamato Iodice dal signor Saccoccio sarà tutto recupero si torna a giocare tanto Correno che è sotto di 4 gol di Vito il pallone messo in avanti da Ripa Cantone taglia tutto il campo a cercare Filippelli colpo di Filippelli che non riesce a innescare il centramanti gara che era stato in bilico con l'uscita di Rubino si è poi messa in completa discesa per questa formazione di Scauri il passaggio in avanti che non trova Maglie Verdi Costanzo controllo di Costanzo passaggio in avanti tutto chiuso rimessa laterale da battere per la squadra d'altretico Virtus. Scauri all'indietro si riparte con Chiappini Magliello praticamente terminate le sostituzioni per Magliello Di Matteo il controllo di Cantone che sulla sinistra ha trovato praticamente campo libero Martone a caccia dalla sfera Angelo Martone la ripese con Alberto Leggero è meglio poi Leggero sfera che si perde un po' sarà ancora rimessa laterale Scaurese Chiappinillo Ripa mette movimento leggero in mezzo a due si perde il pallone poi è Ruggero a prendersi la sfera larga per Divito non si intendono i due pallone perso 5 a 1 al momento il risultato qui al Pire pallone a cercare Stefanelli il colpo rimessa Batturo a cercare Iodice con la sfera che rimane lì tutto bloccato era fuori gioco tutto fermo allora calcio di punizione che sarà da battere a cercare a leggero Cantone si prende lui il pallone ma c'è fuori gioco c'è fuori gioco secondo il direttore di gara si riparte con il numero 3 il Costanzo pallone che non trova proprietari allora sfera fuori ci sarà da giocare per lo scauri che ormai attende solo l'ok dell'arvido per chiudere questa gara controllo lungo la mediana del Corino di Vito il controllo da parte di Conte elegante in avanti quasi centrometri per Conte il dribbling di Conte chiuso dal numero 6 Lavalle al limite il colpo di Lavalle il colpo da servire leggero apre a cercare Ripa Ripa pronto a scaraventare in mezzo Ripa il pallone per vie centrali controllo di Stefanielli che non arriva di poco ancora a cercare la sfera leggero Chiappiniello sale Chiappiniello il dribbling in mezzo entra in aria alle pese con Martone Chiappiniello Martone passaggio indietro per Ruggero di Vito Ruggero il suo controllo arriva su di lui Conte ormai si gioca senza schemi passaggio verso Cantone Massimo Cantone per vie centrali poi Leggero chiuso da Martone c'è fallo proprio da parte di Angelo Martone battuto da parte Leggero per Stefanelli Vento alza Campanile Vento il pallone poi il controllo Stefanelli lascia fare al difensore di Vito Macari Ruggero Aspari Ruggero sale in avanti va a cercare Gargano non riesce ad agganciare il giocatore di Coreno pallone perso e allora rimessa che sarà ancora una volta da parte della squadra virtusina Chiappinello si attende solo la fine Ripa Chiappinello suggerimento in profondità c'è fuori gioco l'arbitro dice che può bastare così si chiude 5 a 1 1 a 0 di Capuano dopo il pareggio momentaneo di Ruggero la fine poi Capuano Leggero Cantone e Iodice vanno a stabilire il risultato per la Virtus Scauri che vince meritatamente per il momento è tutto io ringrazio Tiziana Palombi per le riprese Giuseppe Capuano vi dà i suoi saluti e linea che va alle interviste io l'ho chiamato Felix Express dopo una carriera da calciatore sei passato a fare foto Felì bellissimo bellissimo un bel gruppo veramente ci siamo divertiti tantissimo continueremo a divertirci sicuramente per cui è bello lo sport è bello per questo si riesce a fare tante cose anche facendoci più vecchiotti va bene così però bella è stata una bellissima avventura quest'anno io non ho giocato per diverse problematiche però veramente un gruppo di persone veramente persone come potete definire brave persone che ci tengono allo sport che ci tengono ecco ai ragazzini che vengono a giocare a fare gruppo poi c'è il famoso terzo tempo che pochi conoscono però i ragazzi lo conoscono benissimo perché il terzo tempo vedete la cena che vanno a fare dopo la partita bello una bellissima esperienza sicuramente da ripetere e quando vedremo Felice Feluso in campo senza iPhone dobbiamo ricominciare a correre dobbiamo ricominciare a ricominciare a fare allenamento poi forse riusciamo anche a giocare un pochettino allora ci sentiamo su Facebook grazie ciao a tutti Luigi Forte capitano di questa formazione un 5-1 capitano per oggi ma un 5-1 che sta tanto di soddisfazione una bella partita una bella partita un bel torneo che stiamo facendo ci siamo qualificati per i playoff oggi bellissima prestazione da parte di tutti quanti si è sbloccato il nostro centravanti che è una cosa molto importante per il futuro per questi playoff niente io ringrazio tutti per la collaborazione per lo spirito di gruppo che si è creato e viva questa bella squadra come si proseguirà adesso in campionato in campionato adesso domani ci saranno i sortiggi a Cassino per i gironi di qualificazione gironi che saranno domani ci saranno accoppiamenti con gironi fatti in maniera diversa in base alla classifica ottenuta e niente niente tutto qua siamo in fuori ci siamo contenti e lo scato vuole esserci anche più in avanti nelle fasi finali speriamo bene crepi il lupo in bocca al lupo a tutti quanti e grazie Vito Maiello una vittoria per 5 a 1 che galvanizza ancora di più il morale di questi ragazzi questa vittoria è coronata un lungo percorso per i playoff abbiamo centrato l'obiettivo anche durante il campionato era un campionato all'altanarante però gli ultimi due mesi abbiamo fatto un 5 su 7 partite 3 o 4 vittorie e due pareggi e abbiamo centrato il playoff un gruppo che praticamente vive in goliardia in amicizia ed è una bella esperienza sì molto molto sono ragazzi cari ragazzi che ci hanno messo tutto padri di famiglia abbiamo centrato un obiettivo che noi ci avevamo proposto una Virtus Scauri che atletico Virtus Scauri che è anche settore giovanile vedere i bambini che praticamente guardano i papà giocare è anche una bella cosa sempre ottimo anche se sto pure io sto in mezzo alla cosa con i pulcini è una bellissima cosa e possiamo andare avanti anche l'anno prossimo